Firenze piange i cinque morti nel cantiere in costruzione, oggi giornata di silenzio e lutto proseguono le ricerche di un disperso. Mistero su dove sia il corpo di Navalny, la portavoce accusa le autorità di Mosca di mentire sulle cause del decesso. A Gaza la tregua è lontana, le condizioni di Hamas sono irricevibili per Israele. La compilation dei brani del festival invetta la classifica degli album più venduti e nei social stravincono i ricchi e poveri. Buonasera dal TG2000, Firenze piange i morti nell'incidente di ieri, oggi è il giorno del lutto, del silenzio per una tragedia che ha sconvolto l'Italia. Vediamo allora il servizio di Luigi Ferraiolo e a seguire le voci dei fiorentini raccolte da Vito De Torre. È stata finalmente spostata la trave che bloccava le macerie nel cantiere del supermercato S lunga di Firenze e ci si comincia a domandare cos'è accaduto. Errore di installazione, difetto di fabbricazione o errore nella progettazione? Ruota intorno a queste tre ipotesi l'inchiesta per il crollo che ha provocato quattro morti, mentre il quinto muratore è ancora disperso, ma si pensa sia sotto le macerie. Tragedie come queste accadono per responsabilità, non sappiamo quali, sarà la giustizia, doverlo stabilire, ma ci sono responsabilità e vivere responsabilmente ciascuno la propria funzione nella società è una cosa indispensabile perché il lavoro non solo ci sia, ma sia anche sicuro. La procura guidata da Filippo Spiezia indaga per omicidio colposo plurimo e ha scoperto che probabilmente due vittime non erano in regola. Sembra che gli operai fossero impegnati a sistemare la trave nella mensola al quarto piano, quando all'improvviso ha ceduto provocando la caduta del pilone e a cascata dei solai degli altri piani. La trave in questione è un prodotto industriale che arriva già completo in cantiere, per questo sarà il primo a essere esaminato. Difficile pensare a un errore nella sistemazione visto che le altre travi reggono, più presumibile che sia stata progettata male o realizzata peggio e se così fosse l'incidente non sarebbe legato a una carenza di sicurezza nel cantiere. Terribile, inaccettabile che si muoia lavorando in un paese come il nostro, questa è una cosa davvero di cui non mi faccio una ragione. Le vittime sono un italiano, tre marrocchini e un tunisino. Manca all'appello uno dei magrebini ancora disperso. Con le stesse ditte appaltatrici c'era già stato un altro incidente lo scorso anno in un altro cantiere S lunga, Genova, con tre feriti a causa del cedimento di una rampa automobilistica. A Firenze c'è stato oggi il lutto cittadino e alle 15 si è svolto un minuto di silenzio in piazza della Signoria col sindaco Dario Nardella, mentre i negozi abbassavano le saracinesche. Anche la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio domani in Serie A. Si è sentito questo boato, però non ci eravamo resi conto di cosa, la gravità, non avevamo realizzato. Poi dopo dieci minuti ho tirato sui rotolanti, ho visto tutti i vigi del fuoco, le ambulanze e che è successo? Che poi noi quest'angolo qui ci rimane chiuso perché abbiamo un albero proprio davanti, l'ultimo albero e ci impediva questa visuale e dopo poi abbiamo realizzato che era successo qualcosa di grave, è triste, è triste e poi anche chissà quanto tempo rimarrà così. Mia figlia abita accanto, è venuta dal telefonino, mi ha detto mamma guarda è successo questa cosa. Lei come ha reagito? Gli occhi lucidi come c'era in questo momento. Anche la signora del bar ho sentito che diceva che questi ragazzi che lavoravano in continuazione non parlavano italiano e chi gestiva loro, che è l'unico che parlava italiano, si lamentavano per turni eccessivi, per cose che dovevano fare in un tempo ridottissimo rispetto a quelle doveva essere le cose normali e regolari. In Russia centinaia di persone scendono in piazza per ricordare Alexei Navalny, intanto la sua portavoce denuncia, le autorità russe mentono sulle cause della sua morte. Nicola Ferrante. Sindrome da morte improvvisa. E questa l'ultima verità o forse l'ultima menzogna su Alexei Navalny, scomparso ieri in Russia, di certo quella della morte improvvisa e la motivazione ufficiale comunicata oggi dalle autorità russi ai parenti dell'accerrimo avversario di Putin. Ludmila, la madre di Navalny, è arrivata stamattina presto all'obitorio del Circolo Polare Artico, dove si trova anche la prigione in cui è deceduto suo figlio, ma quando ha suonato per entrare e poter andare a piangere il corpo del figlio, si è spalancato un altro mistero. Quel corpo non è più là, le hanno detto, e solo dopo ore di attesa hanno fatto sapere che è stato già trasferito in un altro obitorio per accertamenti. Restituite subito il cadavere alla famiglia, chiede la portavoce storica di Alexei, e chiaro aggiunge che le autorità russe mentono sulle cause del decesso e fanno di tutto per trattenere il corpo. E l'embolia, prosegue di cui hanno parlato ieri, era dunque soltanto un'altra bugia. È stato assassinato, taglia corto, e si tratta di omicidio politico. Dolore e rabbia in tutto il mondo, sconvolgenti le immagini dalla Russia, dove è vietato perfino manifestare in memoria di Alexei e chi osa sfidare il regime. Viene portato via di peso, quasi 400 persone già arrestate. Rose e candele davanti agli ambasciate russe di tutto il mondo, Putin assassino, i cartelli più duri, lunedì pomeriggio manifestazioni anche a Roma, tutte le forze politiche unite e presenti per una fiaccolata che si terrà in Campidoglio alle 18.30. In Ucraina si continua a combattere, Kiev si ritira da Avdivka, città sotto assedio da settimana. Antonio Soviero. La conquista di Avdivka nel Donetsk è la più importante per i russi dopo la cattura di Bakhmut a maggio dello scorso anno. Il ritiro da Avdivka è stato necessario per evitare l'accerchiamento e preservare la vita e la salute dei soldati, dichiara il neocomandante delle forze armate di Kiev, Silsky. Da Monaco, dove si è recato per partecipare alla conferenza sulla sicurezza, il presidente Silesky difende la decisione dei vertici dell'esercito. Nella ritirata alcuni soldati ucraini sono stati catturati dai russi. La caduta di Avdivka è uno smacco per l'Ucraina dopo il fallimento della controoffensiva della scorsa estate. Qui siamo a Pantelemonivka, ancora Donetsk. Quattro persone, tra cui una quattordicenne, sono state uccise dalle bombe del Kremlino. Questa mattina la contraerea Ucraina avrebbe abbattuto tre aerei da guerra russi nella parte orientale del paese, mentre un uomo è stato ucciso e altri due feriti in un bombardamento degli invasori su Kherson, nell'Ucraina meridionale. E veniamo alla conferenza di Monaco. I leader del G7 ribadiscono il sostegno incrollabile a Kiev, ma affinché questo sostegno sia concreto e soprattutto efficace per il segretario generale della NATO, Stoltenberg, è vitale che gli Stati Uniti d'America sblocchino gli aiuti per l'Ucraina. Mentre cresce la preoccupazione attorno alla situazione nella striscia di Gaza e una tregua appare sempre più lontana, il Ministero della Difesa israeliana ha diffuso un video nel quale si vede un impiegato di un'agenzia dell'ONU partecipare all'attacco del 7 ottobre. Massimiliano Cochi. È la mattina del 7 ottobre. Da qualche ora i terroristi di Hamas hanno cominciato la loro mattanza nei kibbutz vicini alla striscia. Queste immagini di una telecamera di sicurezza mostrano l'ingresso del kibbutz Bahari, una delle comunità più colpite. Si vede un SUV bianco arrivare e fermarsi. Sulla strada e sul marciapiede giacciono tre corpi, accanto a un frigorifero da picnic rovesciato. Dall'auto esce un uomo armato di fucile, lo segue l'autista vestito di nero. Insieme i due prendono per le braccia e le gambe uno degli uomini che giacciono in strada, un cittadino israeliano, e lo infilano nel portabagagli posteriore dell'auto. Quindi controllano tra gli effetti personali sparsi a terra prima di fare retromarcia e lasciare il kibbutz. Per le autorità israeliane, l'uomo vestito di nero è un assistente sociale palestinese e lavora per l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Queste immagini sarebbero dunque la prova che almeno 12 dipendenti di quell'agenzia, secondo l'accusa di Israele, hanno preso parte all'attacco. I dipendenti sono già stati licenziati e le Nazioni Unite hanno avviato un'indagine, ma su questo video il portavoce dell'agenzia ha dichiarato che non è possibile accertare l'identità dell'uomo vestito di nero e che Israele non ha fornito prove a riguardo. Il ministro della difesa, Joach Gallant, ha reso nota però l'identità dei 12 operatori accusati di aver partecipato all'attacco del 7 ottobre. Tra di loro ci sono insegnanti che lavorano nelle scuole dell'ONU nella striscia, ma, ha spiegato Gallant, sarebbero almeno 30 i dipendenti ONU che hanno preso parte al massacro, sequestrato persone, saccheggiato e distrutto. Secondo Gallant, inoltre, dei 13.000 dipendenti dell'agenzia Gaza, almeno il 12% sono affiliati ai gruppi terroristici di Hamas e Jihad islamica palestinese, accuse durissime dalle quali l'agenzia ONU per i Rifugiati, alla quale già molti paesi hanno tagliato i fondi, dovrà ora difendersi. Restiamo in Medio Oriente perché da lunedì prenderà il via l'operazione marittima dell'Unione Europea a guida italiana Aspide su un'operazione di difesa, ha detto il ministro degli esteri italiani, utile a proteggere le navi mercantini dagli attacchi perpetrati dagli uti nel Mar Rosso. In Italia, invece, ripartono i rincari del carburante, la benzina al servito sfonda i due euro e mezzo al litro. Alessio Orlandi. La benzina, in modalità servito, è tornata a superare i 2,50 euro al litro. Si tratta ancora di casi limitati, ma il fatto che l'aumento si sia verificato non sulla rete autostradale, dove i prezzi sono generalmente più alti, bensì su quella ordinaria, non lascia ben sperare. In un mese e mezzo, ha registrato Assutenti, il costo medio nazionale della verde è rincarato del 5,3%, il diesel del 6,3%. Oggi un piano di benzina, ha calcolato l'associazione dei consumatori, costa quasi 5 euro in più rispetto all'inizio dell'anno, uno di gasolio 5,5 euro. Aumenti è il timore che potrebbero scaricarsi sui prezzi al dettaglio dei beni che per oltre l'80% viaggiano su gomma. Tra gli elementi rialzisti, sicuramente la crisi nel Mar Rosso, che costringe molte petroliere a circunnavigare l'Africa per evitare la zona di crisi e il passaggio a Suez. Nelle ultime settimane si è aggiunte anche le condizioni meteo estreme negli Stati Uniti che hanno molto rallentato la produzione delle raffinerie locali che sono molto rivolte all'esportazione e quindi c'è stato un corto sul mercato che ha determinato rialzo dei prezzi. A Taranto un distributore è arrivato a vendere la benzina a 2,53€, il gasolio a 2,44€, mentre in una pompa della provincia di Palermo si è registrato il prezzo più alto, un litro di verde a 2,56€, uno di gasolio a 2,49€, prezzi che non si vedevano da parecchi mesi. Ad un mese dall'entrata in vigore l'assegno di inclusione ha raggiunto 480.000 nuclei familiari. Antonella Mazza Teruel. È stato rifiutato circa un quarto il 23% del totale delle domande presentate per l'assegno di inclusione sociale. La misura di sostegno economico voluta dal governo Meloni è attiva dal primo gennaio scorso. Finora, secondo dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha raggiunto 480.000 nuclei a fronte di una potenziale platea di 737.000 famiglie. Le richieste pervenute all'Inps sono state oltre 779.182.350 quelle respinte. Altre 125.000 circa necessitano di accertamenti o sono sospese o ancora in attesa di verifica da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che riconosce l'assegno alle famiglie con un componente minore d'età o disabile a un anziano in condizioni di svantaggio economico con un ISE non superiore a 9.630 euro e inserite nel programma di assistenza dei servizi sociosanitari territoriali. Lo scorso mese è stato di 620 euro l'importo medio dell'assegno di inclusione che ha sostituito il reddito di cittadinanza più che dimezzando il numero di coloro che percepivano l'ex misura di contrasto alla povertà. La ricchezza complessiva delle famiglie italiane supera i 5 miliardi di euro, si investe soprattutto in titoli di Stato ma il 30% del patrimonio rimane sui conti correnti, sono i dati pubblicati dall'associazione bancaria. La Libia non è un porto sicuro, a dirlo la Corte di Cassazione attraverso una sentenza per cui la consegna di migranti alla Guardia Costiera Libica è reato. Barbara Masulli. Riconsegnare alle autorità libiche le persone salvate in mare è reato. La sentenza pronunciata oggi dalla Corte di Cassazione, oltre ad avere conseguenze sui processi che coinvolgono le ONG, avrà inevitabilmente conseguenze politiche. Essa si riferisce a una vicenda di cronaca risalente a luglio 2018 quando il comandante di un rimorchiatore italiano aveva soccorso 101 persone per poi affidarle a una moto vedetta della Guardia Costiera di Tripoli che le aveva riportate nel paese dal quale fuggivano. La Corte Suprema ha confermato la condanna per il comandante perché la Libia non è un porto sicuro a causa dell'elevato rischio di sottoporre i migranti a trattamenti inumani o degradanti nei centri di detenzione per stranieri. Si è trattato, secondo i giudici, di un'azione vietata dalla Convenzione europea per i diritti umani. La sentenza della Cassazione porterà diversi ricorsi contro il governo italiano da parte di molte ONG e al tempo stesso potrebbe in qualche modo ridefinire i recenti accordi fatti dall'esecutivo Meloni con la Libia. È proprio quello che ha annunciato l'attivista di Mediterranea Luca Casarini pronto a contestare il decreto piantedosi che blocca le navi del soccorso civile. Lo stesso Casarini ha parlato di una grande class action contro il governo. Con la sentenza della Corte che ha chiarito che la Guardia Costiera libica non può coordinare nessun soccorso perché non in grado di garantire il rispetto dei diritti umani dei naufraghi, diventa un reato grave anche ordinarci di farlo, come succede adesso, le parole dell'attivista di Mediterranea. Secondo le organizzazioni che soccorrono migranti in mare, la Cassazione afferma il principio dell'illegalità dell'obbedienza agli ordini della Guardia Costiera libica. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato a 5 chilometri a es di Marradi, in provincia di Firenze questa mattina dopo le 12.49. Le persone sono scese in strada spaventate, riferisce il Presidente della Toscana Eugenio Ciani, ma non ci sono segnalazioni di criticità. Continua la protesta dei trattori. Questa mattina alcune centinaia di manifestanti sono scesi in piazza in centro a Roma e domani gli agricoltori saranno invece a San Pietro, all'Angelus del Papa. E la protesta degli agricoltori dall'Europa contagia anche l'India. Vediamo perché nel servizio di Maurizio Dischino. Bloccati con la forza e la violenza, ma non si fermano. Gli agricoltori dell'India sono stati costretti da polizianti sommosse e paramilitari a fermare la marcia Delhi-Chalo. Andiamo a Delhi. Adesso sono accampati a 200 chilometri dalla capitale Nuova Delhi. Contadini e contadini sono partiti lunedì scorso dalle campagne, in particolare dal Punjab, per chiedere un prezzo minimo garantito nella vendita di gran parte del raccolto nei mercati all'ingrosso gestiti dal governo. Se il governo vuole una soluzione pacifica a questa protesta, deve presentare una legge con effetto immediato che renda il prezzo minimo di sostegno una garanzia legale per gli agricoltori, ha dichiarato Kisan Mazdur, segretario generale dell'Unione degli Agricoltori, uno dei 600 sindacati che partecipano alla protesta. Al momento la risposta governativa è stata quella di bloccare la marcia con proiettili di gomma, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Domani sono previsti colloqui tra gli agricoltori e il governo di Narendra Modi, il quale aspira ad un terzo mandato alle elezioni generali di primavera e sembra quindi non intenzionato ad inimicarsi una forza elettorale come quella dei contadini, che sono due terzi degli oltre 1,4 miliardi di abitanti dell'India. In Vaticano con il Papa che avvia i gruppi di studio sui temi emersi dal sinodo, la seconda sessione si terrà dal 2 al 27 ottobre di quest'anno. Giorgia Bresciani. La seconda sessione del sinodo sulla sinodalità si svolgerà da mercoledì 2 a domenica 27 ottobre 2024. Il Papa ha infatti stabilito le date in cui la XVI Assemblea Generale Ordinaria del sinodo dei Vescovi tornerà a riunirsi per proseguire i lavori sul tema per una chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione. Questa seconda sessione, che come la precedente sarà preceduta da due giorni di ritiro spirituale, era stata annunciata a sorpresa dal Santo Padre nell'ottobre 2022. Francesco aveva infatti voluto prolungare di un anno il processo sinodale, che avrebbe dovuto concludersi nel 2023, consentendo un maggior tempo di riflessione. In particolare si è visto che alcuni dei temi più significativi emersi dall'ascolto delle chiese richiedono un approfondimento teologico, canonistico e pastorale, secondo una modalità sinodale che coinvolga esperti di tutti i continenti e di casteri della curia romana secondo le loro competenze. A questo scopo, con un chirografo pubblicato oggi, il Papa istituisce gruppi di studio che devono essere creati di comune accordo in uno spirito di collaborazione tra i casteri della curia romana competenti e la segreteria generale del sinodo che li coordinerà. Con la colletta nazionale del 18 febbraio vogliamo esprimere vicinanza, affetto e solidarietà a tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo a causa del conflitto in Medio Oriente, in particolare ai nostri fratelli e sorelle cristiani. Così il segretario generale della Ciamon, signor Giuseppe Baturi, presenta la colletta nazionale per la Terra Santa, promossa dai vescovi italiani per domani, domenica 18 febbraio, in tutte le parrocchie. Cambiamo argomento e parliamo di musica una settimana dopo la fine del festival, la compilation delle canzoni di Sanremo è in vetta alla classifica degli album più venduti. Francesco Durante. Ci faranno ancora compagnia nei prossimi mesi le 30 canzoni in gara al 74esimo festival di Sanremo, forse perché quest'anno tanti brani avevano un ritmo allegro e accattivante dal sound orecchiabile e veloce che ricorda i tormentoni dell'estate. Già sin d'ora la compilation ufficiale di Sanremo 2024 guida la classifica degli album più venduti, ma il successo della Kermes Canora va ben oltre, facendo anche vendere altri dischi degli artisti come il coraggio dei bambini di Geolier, secondo classificato al festival. Dalle mie parti un bambino non diventa mai adolescente, ma passa direttamente ad essere un bambino a un uomo, per forza maggiore dell'esperienza che ti dà la vita. Conquistato il terzo posto, anche Annalisa dà lo sprint al suo ottavo album in studio e poi siamo finiti nel vortice, pur non contenendo il brano Sanremese, sinceramente. Tra i singoli del festival, il più venduto è Tutagold di Mahmood. E poi ci sono gli evergreen ricchi e poveri, che con il loro brano, ma non tutta la vita e l'autocitazione di un loro grande successo degli anni Ottanta, spopolano sulle piattaforme social, registrando un'impennata di follower. Il cinema adesso con Fabio Falzone che ci racconta uno dei film italiani presenti al festival Gal di Berlino. Approfitta di questi momenti per stare bene con lei. Hai presente il nostro primo incontro? Il titolo In Other End, un'altra conclusione, la dice lunga. In un futuro neppure troppo lontano, Gael Garcia Bernal non riesce a rassegnarsi alla perdita della moglie. La società In Other End offre appunto una soluzione diversa, rianimare il ricordo di quell'amore in un corpo che renda meno traumatico il distacco, ma le conseguenze saranno impreviste e altrettanto drammatiche. La coscienza purità non ce l'ha nessuno qui. Un film italiano, quello in concorso oggi, ma che in realtà è un colossal con un grosso cast internazionale, bellissime atmosfere e forti implicazioni in quello che racconta. Un film che parla di vita, di morte, ma soprattutto di amore, di quanto sia difficile separarsi dalle persone a cui vogliamo bene davvero. Per noi, racconta Gael Garcia Bernal, questo film è un insieme di tante cose, amore, accettazione della morte, emozioni, sentimenti complessi e tutto quello che questo comporta. Decidere sul momento in cui ci dobbiamo separare dalle persone a cui vogliamo bene, è una cosa che possiamo decidere noi, come la vedi? Penso che sì, penso che decidere forse dobbiamo imparare a separarci. Forse imparare a separarsi è qualcosa di fondamentale. Non voglio essere solo retorico, però il punto centrale è quello. Con questo è tutto, vi ricordo che questa edizione del telegiornale è disponibile sull'app Play 2000, vi lascio adesso al meteo e quindi a Sol, che stasera ospita la pittrice Giulia Napoleone. Buona serata. Grazie a tutti.